Ship a un'anziana ma viene fermato in tempo record in soli 15 minuti ad incastrarlo le telecamere di videosorveglianza. È successo a Montevarchi lo scorso martedì mattina. La vittima stava percorrendo in bici via Gramsci quando è stata avvicinata e derubata. La donna ha così immediatamente chiamato la linea di emergenza 113 dando avvio immediato alle indagini. Sul posto sono intervenute la squadra volante e la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Montevarchi che hanno raccolto la testimonianza della signora che è riuscita a descrivere il ladro ricordando qualche dettaglio sull'abbigliamento e la sua direzione di fuga. Pochi dettagli ma che si sono rivelati utili alle indagini. Grazie alla visione real time delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza del comune di Montevarchi gli agenti poi sono infatti riusciti ad individuare in pochi minuti il malvivente. Si tratta di un 36enne Montevarchino fermato nei pressi dello scalo ferroviario. L'uomo al momento del controllo ancora prima di essere identificato ha ammesso spontaneamente le sue responsabilità ed ha indicato anche il luogo in cui aveva abbandonato la borsa rubata che è stata riconsegnata dai poliziotti all'anziana. Il 36enne invece è stato denunciato per furto costrappo.